Federica e Giorgio vi danno il benvenuto alla Farmacia Verde Maremma. La Farmacia Verde Maremma vi accoglie con gentilezza e professionalità e vi offre tanti servizi per tenere sotto controllo la vostra salute con reparti dedicati alla prevenzione, alla cura e al vostro benessere. E poi, lo sai, la farmacia che ti avvicino è sempre quella più verde. Siamo Grosseto in Viale Uranio 13, Farmacia Verde Maremma, la farmacia dei servizi. Telefono 0564 49 15 14 Diciamo!